Sono Davide, vengo da Milano, ho fatto il NACORON circa 3,5-4 anni fa, sono venuto qua perché un giorno a casa mia ho trovato due persone dello staff NACORON che mi hanno convinto a venire qua, anche se ero già convinto visto che nella mia vita non funzionava quasi niente, non riuscivo mai a mantenermi il lavoro, non litigavo spesso con la mia famiglia, non avevo mai colloquio con loro, con i miei tifoti, con la mia sorella che forse è una delle persone più belle e facevo uso di crack a 4-5 anni buoni e sono venuto qua, qua mi sono trovato benissimo, tranne all'inizio che giustamente avevo un po' di paura e timore, poi però andando avanti soprattutto grazie allo staff che mi hanno aiutato, sono anche uno dei ragazzi che hanno fatto il programma qua, mi hanno fatto capire molto e tutto quello che avevo fuori che stavo perdendo, infatti il giorno che sono riuscito a ricostruire tutti i rapporti che avevo fuori con la mia famiglia e tutto quanto ho capito veramente che ero un pirra da quello che facevo prima, come dicevamo a Milano e niente, poi sono uscito e fuori è stato tutto quello che ho imparato qua, tutto quello che mi hanno insegnato e mi sono trovato bene in tutti i campi della vita, famiglia, lavoro, buon amore e adesso vivo finalmente seria in una vita felice.